Molise è maglia nera nel consumo di sostanze stupefacenti. Gli organi di informazione regionale hanno risposto in modo compatto all'allarme lanciato dal procuratore antimafia Nicola D'Angelo. In particolare Telemolise ha realizzato un filmato che comprende il contributo anche di altri organi di stampa, oltre che delle procure, forze dell'ordine, dei giovani, mondo forense, scuola. Ci sono poi le testimonianze di tossicodipendenti e perfino di spacciatori, ma anche di chi come padre Lino Iacobucci lavora al recupero, di quanti sono finiti nel tunnel della droga. Il report è stato curato dal direttore di Telemolise Emanuela Petescia e dal nostro regista Angelo Pompei. Ieri sera puntata speciale di Moby Dick dedicata a questi temi nel corso della quale è stato mandato in onda, in anteprima, il filmato che nei prossimi giorni verrà proiettato in tutte le scuole del Molise. Ospiti in studio il questore di Campobasso Mario Caggeggi e il capo della squadra mobile Raffaele Iasi, che hanno commentato positivamente il lavoro prodotto. Mi sono reso conto della realtà molisana strada facendo, per arrivare al culmine di questi ultimi sei mesi, sette mesi, otto mesi, dove le statistiche sono veramente aumentate di molto. L'allarme è lanciato, sicuramente è un allarme che ha creato le condizioni per una reazione più energica, ma già da tempo le nostre strutture investigative, e quindi prima di uscire allo scoperto anche, come avete ben detto, il procuratore D'Angelo, con noi e con tutti, già si stava lavorando parecchio e l'allarme da noi diciamo che era arrivato molto prima rispetto a quando è stato esplicitato proprio pubblicamente anche dal procuratore. I nostri spacciatori sono piccoli pusher che hanno però come riferimento le grossi centrali del traffico. Una delle aziende che non va in crisi, tanti negozi chiudono qua a Campobasso, come nel Molise, attività commerciali, industrie in crisi. L'unica industria che non sta andando in crisi, nonostante tutto il contrasto operato da forze di polizia, procura eccetera, è proprio quella degli stupefacenti, dello spaccio degli stupefacenti. E' chiaro che l'approvvigionamento proviene appunto da vicine zone dove la criminalità organizzata ha radici solide. Inviterei mio figlio e i giovani che dovessero aver intrapreso questa strada a cambiare, a rinascere, a vivere una vita diversa rispetto a quella che attualmente stanno conducendo. La vera gloria di ognuno non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo ogni caduta. Quindi questo però, per quelli che non sono entrati, stare distanti, migliaia, anni luce da queste brutte sostanze. E però, devo dire questo, dico ai cittadini, aiutiamo e a tutti i cittadini aiutiamo questi ragazzi, facciamo le sentinelle e dobbiamo essere collaborativi anche nell'estirpare questa cattiva erba che c'è in giro. I due rappresentanti della polizia si sono intrattenuti a lungo nei nostri studi e hanno dialogato con l'editore Quintino Pallante, il direttore Emanuela Petescia, la redazione e i tecnici. Kageji e Iasi hanno tenuto a ringraziare tutti gli organi di informazione e telemolise per il pregevole lavoro svolto per la prevenzione, il contrasto allo spaccio e consumo di droga, strettamente legato anche alla mala vita organizzata.